Continua la mobilitazione da parte dei radicali italiani in merito alla raccolta firme per l'eutanasia legale. Oggi tappa al carcere di Arezzo. Oggi siamo ad Arezzo per una cosa importantissima, per considerare e prendere in considerazione anche le firme di persone che sono considerate la popolazione di serie C. Pochissime persone si occupano dei diritti dei carcerati e prendere le sottoscrizioni oggi per il referendum per l'eutanasia legale è un gesto importantissimo e fondamentale che ci dovrebbe far capire quanto queste persone dovrebbero essere più considerate per le battaglie civili e sociali del nostro paese. Quindi oggi ad Arezzo entreremo io in qualità di referente per i radicali italiani, forse la gente più abituata a vedermi sul palco che non nelle battaglie politiche, ma nelle battaglie sociali e civili io sono sempre disponibile e pronto. Poi ci sarà l'autenticatore ovviamente per la sottoscrizione delle firme e un altro volontario che entrerà con noi all'interno del carcere di Arezzo. Dobbiamo sottolineare l'importanza del coinvolgimento di persone che sono considerate poco o niente di serie C, come giustamente ha detto lei. Certo, perché purtroppo sempre più spesso ci sono sempre cittadini di serie A, cittadini di serie B, cittadini di serie C. Questo non dovrebbe esistere agli occhi dello Stato, che preferisce sempre non guardare, perché anche la mobilitazione che c'è stata, straordinaria mobilitazione che c'è stata per le sottoscrizioni del referendum di cannabis legale, oggi, è partita da 4-5 giorni fa, già siamo arrivati a 460 mila sottoscrizioni. E sempre di più ci dimentichiamo invece delle persone che chiedono da sempre, la società civile è sempre più avanti rispetto ai partiti, alla politica è sempre più avanti, però non viene mai guardata, non viene mai dato un occhio di riguardo a quello che è il cittadino, poi sostanzialmente.